Sì! Ma perché tu vuoi un figlio con me? Ti rendi conto che con me è tutto più difficile? Presto, veloci, altrimenti i follicoli scoppieranno! Non c'è un figlio, ma non c'è un figlio per me, non so quella tra mamma. Ma voi avete capito cos'è l'amore? Ma che avete capito voi? Ma che avete capito? Io sì che l'ho capito invece. Andrea è l'ex bambino Nessia. Io sono il suo primo bambino. Ma io ho veramente una fine del mondo per me, voglio. Io ho veramente una spagna. E insomma ci vanno un sacco di soldi e mamma ci sono pure finiti. Noi saremo bravi. Abbiamo già smesso di fumare. Spetteremo anche di bere. Io voglio un figlio con te, voglio una famiglia con te perché sei tu. Ma dove stiamo andando? E fidati! Ci pensi che potrebbe essere uno di questi? Non sarebbe mica male, eh? Biamma! Biamma! Grazie a tutti